ciao ragazzi video di recensione della maca che è arrivata oggi anche le sedie sono arrivate oggi quindi magari faccio un video a parte anche per queste sedie vediamo la maca che l'ho appena messa allora vediamo un pochettino cosa era compreso nei 22 euro vi dico subito più di mille recensioni forse 1700 mi sembra quindi un prodotto stra venduto e stra recensito perché per fare 1700 recensioni probabilmente ne avranno le due 20 20 30 mila di amache di queste qua c'è una cinghia molto resistente viene data tutto l'intera maga per almeno 200 kg ma la cinghia credo che possa resistere anche a sollecitazioni maggiori magari il collo di bottiglia potrebbe essere proprio la corda che vediamo qua è molto facile da regolare la distanza perché perché prendete la cinghia la passate dentro questo anello e la girate più volte sino a che questo punto qui dove già predisposto per passarci col moschettone diventa della lunghezza giusta deve essere abbastanza teso voi la vedete alta ok rispetto al pavimento ma inizialmente deve essere un po alta perché magari cede un po e poi dipende anche dal peso che ci volete mettere il caso mio che peso più di 100 kg e se mi mettesse troppo vicino troppo vicino al pavimento poi dopo toccherei per terra da quest'altra parte l'ho legata seguendo lo stesso principio e bisogna fare in modo che tirando si fatica un pochettino a tirarle modo che entra dentro vede che l'ho tirata quasi tutta poi qualcuno se vuole o se è molto leggero può anche da di meno gioco ecco qui qua prova a metterci seduto ecco vedete ho già fatto abbassare molto quindi ce la faccio a mettere più grand'angolo non ce la faccio però vedete si è abbassata molto rispetto a terra e posso decidere di essere più o meno avvolgente se la voglio utilizzare così come poltrona a secondo di come metto quel sedere potrò stare più dritto più sdraiato e chiaramente per lungo è comodo lo stesso anche per lungo comoda per me e comoda maggior ragione anche per due persone di peso normale ci si può stare in due si può stare in due sia seduti quindi potrei avere una persona seduta a fianco a me o addirittura se sono piccoli uno adesso a sinistra insomma e sdraiati anche delle due persone normali chiaramente quando ce sto io già già ho fatto ho fatto cappotto già va bene così se ci metto io però ci mettono due persone che pesano pesano 70 kg 80 kg allora due fruscelletti così ci possono stare 22 euro con prese spesa di spesa disparizione io direi che vedete la fascia quella de che vuoi fatto del prima quel tipo di fascia la se voi andato a cercare per tenere le amache per attaccare facilmente amache a qualsiasi albero a qualsiasi palo possono costare anche 30 euro civendo utili vestiti coi vari cancetti te qua di la questo invece un metodo semplicissimo funziona è resistente perché per romper la dovete rompe la cinghia ed è compreso nei 22 euro di amaga il materiale il materiale è un cotone fresco quindi è un materiale sicuramente sicuramente che non fa sudare a differenza di un materiale che uno potrebbe preferire per l'esterno un materiale sintetico che sono date molto simili ce le ho io anche altre amache così e molto simili ai paragadute che però non hanno quel comfort sulla tela che c'ha questa telaccia qua questa assomigliano molto alle amache che prendevo in affitto in brasile negli ostelli in brasile potevi scegliere se volevi dormire nella maga o nel letto e quasi tutti preferivano dormire alla maga e queste assomigliano un pochettino a quelle amache che si usano in sud america anche nelle navi le mettono le mettono nelle barche quando vai quando ti sposti sui fiumi è un materiale un materiale che non non ci si usa se è anche leggermente sudato che è caldo è un materiale è un materiale molto molto piacevole molto molto tollerabile molto più di quel tipo quella che dico di amache che vanno che vanno alla grandissima che hanno il materiale tipo i paragadute che però se sei in una situazione tipo di caldo umido un po' sudaticcio allora allora in quel caso darebbe fastidio no in altre situazioni invece sono ottime anche queste ma veramente per 22 euro bisogna dargli per forza 5 stelle a sta maga che è un ottimo acquisto vi metterò il link amazon in descrizione